salve a tutti e benvenuti in un nuovo video a s m r oggi vi leggerò un po di storie per farvi addormentare cominciamo subito con il video gloria scopre tale video gloria si alza una mattina e guardando fuori dalla finestra Vede un passaggio tutto, 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 l'acqua. Chiama così i suoi amici coneglietti per chiedere cosa sia successo, successo. E la neve, pretta e soffice, è perfetta per giocare. Vieni con noi che ti facciamo vedere. I coneglietti prendono un po' di neve e ne fanno delle palline che poi si tirano a vicenda. Anche i cagnolini, curiosi, vogliono provare. Gloria e i suoi amici, divertendo molto i coneglietti, avevano ragione. La neve è perfetta per giocare in compagnia. Poco lontano, Gloria vede passare un gatto che tira una dritta con sopra il topino. Dove andate? domanda la bambina. A giocare sul ghiaccio, risponde al gatto. Venite con noi, continua il topo. Anche patinare sul ghiaccio è divertente e grazie ai suoi amici, Gloria impara presto a stare in equilibrio. Escesa la sera, Gloria nel suo letto, ripensa la giornata appena trascorsa, trascorsa, trascorsa. Amici, amici, gatto e toglie, che hanno fatto insieme, si è diventata così tanto che aspetta trepidante la prossima neveganda per giocare ancora con la neve. Il sogno di Dante è l'elefante. L'elefantino Dante conosce molti animali, ma il suo migliore amico è l'uccellino Serafino. I due amici hanno giocato assieme tutta l'estate, adesso che è finita, Serafino deve migrare verso paesi più caldi. Dante, l'elefantino è triste senza il sole, si decide di chiedere aiuto agli altri animali, i suoi amici. Riccio pensa di poter creare una bolla di sapone tanto grande da contentare l'elefante e farlo volare. Ma Dante è troppo grande e la bolla di sapone non può essere la soluzione. Chissà se Topino ha un'idea migliore. Topino sostiene che con il suo ombrellino è possibile volare ovunque, lui si sposta spesso così. Ma Dante, ma Dante, Dante, troppo pesante, pesante, pesante. E l'ombrellino non riesce a sollevarlo, anche questa idea è da scartare. Scartare, 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 scartare. L'omaca ha due palloncine e deve far felice di regalarne qualcuno a Dante per farlo volare dal suo amico serrafino. I palloncini sollevano Dante da terra, ma non basta per far sì che l'elefantino voli. Anche questa volta Dante deve arrendersi, 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 arrendersi. Dante è molto triste, 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 triste e nessun tentativo ha funzionato. Ma ecco l'ebbre svolta a correre dall'elefante. Ha trovato la simile soluzione, 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 soluzione. L'ebbre spiega a Dante che se tre palloncini non sono sufficienti sicuramente lo sarà un palloncine. E quindi lega la pancia di Dante una mongolfiera. Per Dante non riesce a crederci con la mongolfiera sta avvolando sogno al cielo e può finalmente raggiungere l'amico serrafino. L'elefantino ha imparato che non bisogna mai arrendersi e così tutti i sogni si avvereranno. Fine Il regno terrestre, 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 terrestre. Orecchie grandi e proboscite e pensolante sono attributi dell'elefante. Se ricordo la sua memoria per lui è un vanto. Il coniglio salterriando. Le carote va mangiando. Se salterreno la dana è pronta in un paleno. Solitario è l'orso cruno. Lasciarlo in pace è opportuno. Mangia pesci, frutti e piante. Ma anche con il miele allettante, 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 allettante. La lumaca cammina lenta e allettante. E per strada a volte si addormenta. Ma a lei poco importa. Sai perché? La sua casa trascina sempre con sé. Il cane dei bimbi è... Il cane dei bimbi è l'amico migliore. Lui può giocare a tutte le ore. Lo vedi scotinzolare quando è contento. Ma se appaia veloce devi stare attento, 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 attento. Gli aculei del riccio sono pungenti, pungenti. Se li tocchi poi te ne petti. Per tutto l'inverno si venire. Ma il sole d'arco in primavera deve finire. Il cervo maschio con le corna la sua testa da tutto adorna. Se le corna non le ha una femmina sarà... Fine. Il tesoro nascosto, 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 nascosto. Topino, l'avventuliero, ha scoperto che un grande tesoro è sepolto nell'oceano ma non conosce il luogo esatto. Così Topino parte con la sua parchetta e gira con il mondo domandando ai pesci se hanno visto un tesoro, 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 un tesoro. In conta Graevi viene il libro che vive lungo le coste australiane. Peccato però che lui non abbia mai sentito parlarti di suo tesoro. Ciao Meduse, avete per caso visto un tesoro durante il posto a Natale? Che al Mediterraneo non abbiamo visto niente. Rispondono le Meduse. Non è qui che troverai ciò che cerchi, dicono i pesciolini tropicali a Topino. Nemmeno loro hanno mai visto il tesoro nascosto in fondo al mare, al mare, mare. Topino chiede anche alla balena se le è capitato di vedere un tesoro sul fondale marino. Sì, ho visto un forziere mentre attraversavo l'oceano Atlantico, risponde la balena. Topino è felicissimo, sa che presto il tesoro sarà suo, ma prima deve trovare qualcuno che lo aiuti e lui sapete da chi andare. Topino arriva fino in Cruellandia per incontrare il Capitano Orsetto, che si dicendo sia stato di aiutarlo nella sua impresa. Tutto l'occorrente per le immersioni non si immerge nell'acqua gelida, ma più va in profondità e più diventa buio e non si vede nulla. Ad un tratto però un lucchio e il tesoro, 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 afferra il forziere e nuota verso la superficie, ma all'improvviso sente un rumore. Un pesce enorme vuole mangiarselo, Topino nuota più veloce che può fino ad una corda che il suo nuovo amico Orsetto ha gettato per lui e si aggrappa con tutte le sue forze. Topino è in salvo e ha finalmente trovato il tesoro che stava cercando. Lo divide in parti uguali con Orsetto e riparte in cerca di nuove avventure. Avventure Fine Bene ragazzi, spero che vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Fine Bene E Grazie.